www.castelloincantato.it La notizia Corre in rete Raccolta alimentare 2014 Siamo presso la sede operativa di Piazzana Moncibello della Fraternità di Misericordia e già man mano vanno affluendo si vanno radunando i diversi volontari che oggi saranno attivi nella raccolta alimentare ma oltre ai volontari della misericordia ci sono i volontari dell'Associazione Don Diego di Vincenzo ci sono i volontari dell'Arcistraus e ci sono anche alcuni ragazzi della confraternita di Maria Santissima Maria Santissima dei Miracoli tutti pronti per la raccolta alimentare in questa edizione del 2014 Ecco si aspetta l'arrivo di altri volontari per poi procedere alla formazione dei gruppi che presiederanno i vari supermercati che hanno aderito alla raccolta alimentare per la verità quasi tutti i supermercati hanno aderito e quindi i volontari saranno lì in sede a sensibilizzare appunto la raccolta alimentare che poi sarà consegnata ecco come gli altri due anni gli anni precedenti le edizioni precedenti saranno consegnati ecco presso il Santuario Maria Santissima dei Miracoli che curerà poi la distribuzione agli indigenti diciamo anche che nel piazzale Moncibello è stata allestita la tenta della solidarietà una tenta simbolica ecco per dire che c'è in atto in questi giorni la raccolta alimentare e come potete vedere dalle immagini già il primo carico della raccolta alimentare che viene portata in sede per essere catalogata inventariata ed impacchettata per poi ecco essere consegnata al Santuario come già è stato detto ecco Maria Santissima dei Miracoli e dalle immagini vedete già che i volontari ognuno per la propria parte sta mettendo in ordine impacchettando ecco il tutto il materiale pasta, zucchero, scatolame ecco e intanto dalle prime notizie che si hanno durante la raccolta la gente ecco donna 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 ecco qualche cosa e fa diciamo così ecco il proprio dono per appunto questa raccolta alimentare ma anche i ragazzi dell'Arcisraus quelli che vedete in questo momento danno una mano d'aiuto ai volontari della misericordia e agli altri dalle immagini che sono immagini eloquenti già vedete che sono impacchettati ecco i viveri raccolti di genere di prima necessità come anche quello diciamo così a lunga conservazione la gente ha risposto e il cuore generoso di Mussomeli ancora una volta ha fatto sentire i propri palpiti e vi possiamo dire che la raccolta di questi giorni ecco da conteggi fatti ha superato oltre la tonnellata appunto di pasta www.castelloincantato.it la notizia corre in rete